Ben ritrovati ospiti di questa puntata, Franca Ferreri e Adamo Calise per parlare dell'Ecomuseo del Mare della Pesca che si trova presso il lungomare nord di Martinsicuro. Direttrice, si tratta di una realtà molto importante non solo per la città di Martinsicuro? È stata molto importante anche per noi perché io e lui provenendo da famiglie di pescatori abbiamo proprio nel cuore il mare e quindi abbiamo approfittato nel 2013 che il Comune fece una piccola mostra e da lì siamo partiti raccogliendo delle firme e da lì siamo partiti appunto per realizzare questo museo. L'amministrazione comunale nel 2015 ha accolto le nostre richieste per cui ci ha dato la possibilità di portare avanti questo progetto e di creare l'Ecomuseo. L'abbiamo creato con tanto diciamo noi tutti dell'associazione quindi tutto il gruppo è stato molto bravo e tanta gente ci ha dato come hanno sentito appunto questa notizia che volevamo far nascere l'Ecomuseo della Pesca e del Mare. Tutti i prodigati ci hanno dato tante cose ma tantissime cose che avevano dimenticato ma che però sono molto importanti e sono tutte nel museo. Poi diciamo che nell'Ecomuseo nel gruppo abbiamo anche un biologo Emanuele Troli per cui lui è stato molto importante perché durante le visite che si fanno lui fa vedere dei filmati molto molto belli. Poi ci ha fatto partecipare a dei progetti per innovazione nel museo è anche esposto a una cassettina di sembra polistirolo ma non lo è. È fatto di materiale biodegradabile e compostabile per cui ecco noi cerchiamo di fare del nostro meglio per far conoscere appunto alla gente quello che abbiamo creato è il mondo della marineria quindi il mondo dei pescatori perché non tutti lo conoscono ed è bellissimo. Ha perfettamente ragione Franca. Allora Damo lei è una guida. Quali sono dunque i percorsi che avete realizzato per permettere ai visitatori di scoprire proprio la cultura marinara di cui parlava appunto Franca? Abbiamo realizzato sei stanze che si suddividono in tutti i tipi di pesca. Ci sono diversi tipi di pesca. A circuizione, pesca da posta, pesca da strascico, con la fiocina, con l'amo che prima si faceva di ossa, di legno, ora si fa di ferro, la lenza fatta addirittura di crino di cavallo, sedoli di cinghiale. Poi abbiamo la pesca del murice, è un mollusco dove gli antichi venivano a fare questo tipo di pesca perché lì ricavavano il rosso porpora. Poi abbiamo la pinna nobilis che è un mollusco pure lì che è una via di mezzo tra un'ostrica e una cozza. Con i suoi filamenti si fa il bisso, detta anche seta di mare. La seta di mare è una fibra molto resistente, molto resistente e leggerissima. Poi parliamo dei nodi, come si ormegge una imparcazione, come si leggono due cime insieme, in gergo merinaresco cime significano delle funi. Poi parliamo del tramaglio, è una tipa di rete fatta a tre strati. Parliamo delle vele, le vele sono fatte da quelle antiche, fatte da cotone, a quelle moderne, fatte da poliestere, questi materiali qua. Poi ci sta anche la plancia, la plancia l'abbiamo realizzata in un rapporto uno a uno, in modo che diamo l'impressione al visitatore di stare proprio a bordo di una nave. Lì trattiamo le rotte antiche, le rotte moderne, poi trattiamo il miglio marino. Allora Franca, in conclusione se vogliamo dare riferimenti per poter visitare il museo, c'è bisogno della prenotazione obbligatoria? Sì, esatto, con una prenotazione è meglio, almeno sappiamo quante persone vengono. Quindi abbiamo il sito sul sito internet, Ecomuseo del mare e della pesca, e lì ci sono i nostri numeri di telefono, mio e di Adamo, e lì ci potete chiamare e si fa la prenotazione. Grazie a tutti. Grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento.